Come fratelli d'Italia, quali misure intendete adottare per fronteggiare il dilagante fenomeno dell'immigrazione che coinvolge sempre di più la nostra Italia ma anche il territorio del VCO? Questo episodio di Domodossola è un caso lampante, purtroppo se ne stanno verificando altri un po' su tutto il territorio nazionale. È il sintomo che questa Europa, così com'è, non funziona. Il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, della gestione soprattutto dei profughi, deve essere un tema europeo. Quando queste persone scappano dall'Africa per venire in Europa e non fermarsi in Italia, tutti i paesi europei si devono far carico di una quota di questi rifugiati politici. Purtroppo il governo italiano non più tardi di otto mesi fa ha firmato un accordo che si chiama Dublino 2 che dice esattamente il contrario, cioè che assegna esclusivamente in capo agli stati di primo approdo la responsabilità di gestire questi profughi. Noi abbiamo votato contro, purtroppo invece il governo ha sottoscritto questo accordo. Bisogna essere credibili. Quando si chiede all'Europa di intervenire, bisognerebbe cominciare a difendere con più forza l'interesse nazionale di fronte a un'Europa sorda ed egoista.